Buonasera e ben ritrovati a questo appuntamento con la rubrica dedicati agli animali. Vi parlo questa sera di una razza di cani abbastanza diffusa ma forse poco conosciuta, è il Rottweiler. Il Rottweiler è una cane derivante proprio da delle razze utilizzate anni fa come bovari, quindi come animali al seguito delle mandrie, in particolare in Germania. Prende il nome dalla città di Rottweiler, proprio nella Germania del sud. È un animale con un'ottima capacità di difesa, fa parte della categoria dei molossi e la loro capacità di difendere sia il gregge che le mandrie ma anche i padroni stessi, pensate, inducevano i proprietari di questi cani a legare i loro forti guadagni derivati dal mercato delle bestie al collo di questo cane in modo che difendessero meglio di loro i guadagni derivati dalle vendite. È un animale che ha un'ottima capacità di difesa, è anche un ottimo cane da compagnia, infatti ama stare vicino all'uomo, seguirlo, assecondarlo ma non sopporta assolutamente di essere legato alla catena. È un cane discreto e tranquillo, è un profondo osservatore ma non è mai né irrequieto né precipitoso. Ecco però se avverte una minaccia rivolta verso il padrone diventa terribile, suo coraggio non conosce per niente flessioni e debolezze. Quindi è sicuramente un cane da gestire, è un cane che può avere un'ottima capacità di difesa ma è istintivamente obbediente al padrone e affezionato alla casa in cui vive. Bene, per questa sera è tutto, vi do appuntamento a settimana prossima dove andremo a scoprire un nuovo animale. Arrivederci!